E' stata Piazza Nicoletti ad Oltrisarco il luogo scelto per rispettare la tradizione inaugurata negli scorsi anni con l'allestimento di illuminazioni natalizie anche nei quartieri più lontani dalle luci del mercatino di Natale di Piazza Walter. Alla presenza del sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi e dell'assessore alla partecipazione Angelo Gennacaro con un giorno di anticipo rispetto all'apertura del Christkindlmarkt i bambini del quartiere con un festoso countdown hanno acceso la prima luminaria natalizia della città. Grazie ad un effetto domino si sono poi via via accese le luci di Natale in tutta Via Claudia Augusta nel resto del quartiere e da qui oltre Ponte Roma e in tutto il capoluogo. E' importante, fa parte della cultura, della tradizione, della fede di noi tutti e quindi il Natale è il periodo di pace. Sono giornate corte, giornate di buio e il senso del Natale è proprio dare la luce al buio e alle tenebre. Quindi sono giorni di speranza per chi ha fede, giorni di inizio della vita. E' un'affermazione di vita e di volontà di vita. Questo lo devo dire, e quindi abbiamo iniziato dal quartiere di Oltrisarco in questa bella piazza con l'accensione delle luci perché sia un segno di fratellanza, di pace e non voglio cadere nella retorica perché siamo una società che ha bisogno veramente di meditare, di pensare, di confrontarsi, di aiutarsi reciprocamente l'un con l'altro. Il comune, la provincia, le associazioni fanno tutte la loro parte, dobbiamo impegnarci ancora di più e non è il solito buon proposito sotto Natale. E' un impegno che deve stendersi tutto l'anno e quindi noi speriamo che questo Natale sia veramente un elemento di pace e di serenità per tutti noi a Bolzano ma in tutto il mondo perché ne abbiamo proprio bisogno contro i fanatismi, contro la violenza di tutti i tipi e soprattutto deve essere una grande festa per i nostri bambini perché abbiano fiducia nel futuro e di questo sviluppo della società nella quale loro saranno protagonisti. Anche in occasione del Natale il comune di Bolzano è costantemente impegnato nel promuovere manifestazioni e iniziative per rendere gli stessi quartieri centro della città. Nelle precedenti amministrazioni si è sempre un po' criticato il fatto che ci fosse la centralità soltanto sul mercatino, quindi le luci del Natale fossero accese solo sulla parte più centrale. Partendo dai quartieri, quindi anticipando di un giorno fondamentalmente l'accensione delle luminarie della città e facendola appunto dal Trisarco quest'anno, vogliamo dare importanza ai nostri quartieri. Il Natale sarà presente in tutti i quartieri con diverse iniziative e manifestazioni, quindi penso appunto ai Babbi Natali piuttosto che il mercatino di Natale che appunto vedremo oltre il Trisarco e una serie di iniziative proprio che vorranno portare il centro del Natale nei nostri quartieri. La cerimonia di accensione delle prime luminarie del Natale 2017 a Bolzano è stata aglietata dalle note della Tiger Jets Band e del coro di Cristo Re.